già il primo incarico vabbè primo incarico bordello qua salta tutto speriamo di aver capito qualcosa chissà se legge ne fisso o si potrà cambiare penso sia fisso sarebbe bello magari più che cambiarlo modificarlo cioè tipo pimp my legion salve cos'era quel silenzio la polizia di central city central city un nome ha richiesto che i portali si sono aperti lungo il grande grande avenue avviene avviene contaminazione diffusa la polizia sta facendo il suo meglio per contenere gli abomini la presenza di portali è abnorme direi che la polizia occupatissima è un eufemismo portali non appaiono di punto in bianco senza che nelle vicinanze ci sia una chimiera non in tale quantità sull'arca ci sono solo cinque persone in grado di opporsi alle chimere e si trovano tutte in questa stanza bene cacchio bella sua squadra per questo che alla polizia comune sarebbe il vostro aiuto andate lì fuori trovate la chimiera e fatela fuori vostro capitano vi fornerà tutti i dettagli sull'operazione ok non sappiamo di cosa sia capace questa chimiera con voi avrete i vostri legion ma dovrete essere prudenti ricordate che non possiamo rischiare che qualcuno di voi la insegua oltre il portale quindi occupatemi in questa dimensione ok comunque questa è una trama questo è un anime io l'ho già visto c'è presente ci sono questi portali che nascono e questi portali che nascono solo se ci sono le chimere quindi le chimere sono tipo un'unità particolare dei nemici è un anime io già è un anime non mi ricordo che anime era era forse la cantai cantai collection era mi pare che fosse un anime tipo cantai collection che parlava di praticamente queste ragazze che dovevano essere tipo delle navi insomma era un anime un po' particolare e c'erano i nemici che avevano queste unità elite diciamo e solo con queste potevano anche creare questi portali penso sia la stessa cosa continuiamo alla polizia e cerchiamo di ottenere quante più informazioni possibili ma noi non siamo dalla polizia abbiamo polisso sul petto nella chimera saremo io Alicia e Gina a coparcene ok ma probabilmente la troveremo noi guarda col culo che ci abbiamo Gin c'è a destra di perciò forse noi potremmo no voi due raccogliete informazioni niente atti eroici sono ordine del vostro capitano ok dai ragazzi forse capitano è un pelino più protettivo ma siete nuovi eh no ma io ti capisco eh sono d'accordo con te il problema è che non è lo script del gioco che farà così sono tutti nei guai ok va bene va bene o era un bel tranquillo ma chimera no non lo so di Dark Souls ah si il boss chimera è di Dark Souls è vero c'è anche Samsung quanto è scontato che Max morirà no dai spero di no cioè cacchio raga ma siamo in cinque se perdiamo gente che siamo in cinque ma che cacchio sono guardando il periodone che il gioco in sé va benissimo anche io che poi vabbè cioè è normale credo cioè che abbiamo lei quell'altra che poi quell'altra in realtà non mi piace neanche tanto e Olive forse Olive è più bella di me al momento non sappiamo molto se non che il responsabile è probabilmente una chimera ok se lo è dobbiamo assolutamente sapere quanto più possibile prima di affrontarla cerchiamo degli indizi cos'è quella bavetta? ah sono i cristalli di prima sono quei robi che avevano trovato prima Iris in funzione telecamera di sicurezza non ha ripreso qualcosa controlliamo le ok vai uh oh ah piano raga ma è stupendo cos'è? cosa posso puntare? ah mi fa vedere i nomi ok Sandra Nogami nomi strani per dei giapponesi Sandra sei a Morris io che devo cliccare ah scusa e tu chi sei? ah no aspetta ah no ok loro esistono no aspetta io cosa devo fare? vado qua? scusa mi non aiuto dagli sbirri locali eh non vorranno che risolviamo il caso della loro competenza l'ultima del legion può essere utile anche in questo caso inviaglielo vicino per sentire se sono se dicono cose interessanti il legion devo mandargli il legion perché loro non possono vederlo se vedi un vampiro biondo non fidarti ok l'invio il legion vai bello vai a sentire ma cos'è? ma cos'è sta roba? i roboli sono un'altra scena del crimine ma chi si credono di essere? basta la voce sono quei tizi no? quelli dei sotterranei della centrale com'è che si chiamano? neutron? neutron? Jimmy neutron? ah no neuron ma è sentito nominare chiunque siano farebbero meglio allevarsi dei piedi in fretta un cordo in piro se ne vanno in giro tranquilli a farci domande come si faccia dai civili gente trascinata in un portale da una mano enorme che fesseria grazie progresso 50% non guardare me poi non so che le tessimone è ferro non l'idea l'ho già vista deve esserci una qualche spiegazione aspetta 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 eh cosa è sta roba? cosa ha raccolto quello del mio tizio? origlia? no? questo altro origlio? questo doveva origliare? sono state rinvenute delle macchine schiacciate dal crollo erano vuote se non è un miracolo questo è infatti un po' troppo strano effettivamente sono delle macchine vuote credi che tutta questa gente si è salvata? non lo so ma cos'è sta roba raga se i supersti sono tornati a casa infetti avremo a che fare con un sacco di contaminazione ma che cacchio sta succedendo? io cosa sono qua a fare? chi è che mi chiama? Alicia? non lo so si questo l'ho già visto aspetta ma devo parlare ancora con loro? e beh le inquadrature del gioco sono fatte apposta per per fare dei riculi no ma sono no non me ne interessano cacchio di loro ah qua ma che cacchio non riesco ancora non ho inquadrato bene il gioco nel senso è un poliziesco di particolare pare che ci fosse un portale aperto sul ponte che questo abbia poi corollato per le vibrazioni è una fortuna che non ci siano feriti come se fosse accaduto se fosse accaduto nel weekend non eravamo molto più materia cremisi materia cremisi che era quella che dovevo raccogliere cosa abbiamo qui un'impronta eppure dannatamente grande a giudicare delle dimensioni dalla materia cremisi mi pare ovvio che non sia umana ma che è questa materia cremisi ci si chiama una chimera delle mani gigantesche ok lo tolgo eh mi si è raccolto abbastanza indizi venite a me ci vediamo e riusciamo a capire no 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 devo parlare con tutti no spero di no magari parla solo con questi qua arancioni ah aspetta questo c'è un caso importante pare che tu abbia raccogliato qualche informazione ma vediamo cosa hai capito è caduto un ponte questa è la mia decisione finale caduto il ponte mi è trattamente di favore che mi dici delle caratteristiche fisiche della chimera che è stato questo disastro mani gigantesche cosa sto rispondendo so che hai capito so che hai visto l'impronta enorme quindi perché la chimera sarebbe venuta qui per fare un giro turistico o è un'idea migliore perché è venuta qua per trascinare la gente questo è un compito di italiano la gente non finisce non finisce di portare lì da sola deve essere per forza opera di una chimera questo è tutto ciò che sappiamo ora viene la parte difficile non ci sono dubbi che abbiamo a che fare con una chimera una con mani enormi che spuca dal nulla distrugge il ponte afferra un civile e lo porta da qualche parte per fortuna le chimera lasciano tracce che i legion possono trovare queste sono tipo le tracce dei mostri su monster hunter quando sbavano per terra ah è una mano ok ti ricordi la grossa impronta che è lì di fianco guarda che ce l'hai dietro vedi se il legion riesce a trovare qualcosa nei dintorni e lì è eh ZL ritrova tracce qua bravissimo avete delle tracce ora seguitele dove? aspetta ah qua che roba strana le tracce si dividono è possibile che ci siano più chimere? non lo so detroit become human per il tema futuristico giù per i tipi ho messo di altri giochi i personaggi finisce nel fighter pass eh no perché ci sono già gli spiriti di alcuni non di tutti vado giù di qua raga eh quanto pare tipo devo girare questa è la mia guardia del corpo devo stare attento devo stare attento a tenerla lì sotto controllo perché mi si scarica ah con questi con questi li ricarico però ma non ho capito cosa sono vabbè tu raccogli tu prendi clicca prendi fai copiamoci noi così papà capirà di cosa siamo capaci eccolo subito prima cosa da fare oh raga mi raccomando in caso chiamateci sì sì vai tranquillo papà trust me dovresti riuscire a passarci se da basso sì ma sono stupida scusa come faccio a passarmi ah ok ah ok come le persone normali giustamente te ti inizi inizi a correre attraverso un coso io raccolgo queste cose rosse ma mi servono a qualcosa vado giù di qua muore ma è probabile oddio per carità a morire magari no però sicuro mi son perso ma tipo al 100% mi son perso e poi non ho capito cosa sono quei robi rossi questo cos'è aspetta un attimo levati levati guarda dentro ok devo farci un attimo l'abitudine con sto questa bestia tada oh wow che cliché ecco le mani giganti anche bria rio e vabbè le altre ma le altre non te le fa leggere cioè va bene trovi il nome e basta ok mi ha tirato un pugno al mio coso allora gira lì attorno gradissimo ce l'abbiamo ce l'abbiamo vai festa 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 bravissimo lui non lo so non lo so cos'è ottenere la vita ma in realtà non mi fanno neanche tanti danni oh cacchia ma che bordello scusa un attimo fermo fermo allora dammi una mano tanti l'ha occupato il gigante il bestione faccio un attimo fuori questo e arrivo subito ti preoccupare di me eccoci cosa fa il mio robo oh fiamola vorrei provare a incatenare ok beh incatenarla è anche abbastanza semplice effettivamente sto cercando di capire se hanno una vita questi boss non si schiva con B era con B l'ha schivato vero ahia era con B mi pare ogni tanto prende una saccagnata di voto però B che strano dai eccolo eccolo un cacchio non l'abbiamo esatto oh dai 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 che ci passi sì bello ok no ma me le spacca ma questo era un boss questo è il boss Xemoblade bar borra la scimmia grossa dell'ottantosi nel gormut nel robo che gira nella pianura E' entrata la chimera Ma non siamo riusciti a salvare loro Ma la chimera è morta Forse papà aveva ragione Non siamo pronti Vabbè ma loro non potevano salvarli Pare che un portale sia appena aperto Ma quello era il boss Cercate di stare lontani dai guai Ok Fai tranquilla Però era un boss raga Come si? Non era un boss Ma che schifo era? Non possiamo lasciare il portale aperto I legend dovrebbero poterlo chiedere in un lampo Ok Puoi distruggere alcuni portali Avvolgendoli con la catena del tuo legend Easy Toh Vedi che te non ti muovi Te non nasci Ok Ah Li può prendere solo lui? I cosi? Sì ma che cacchio sono quei cristalli rossi raga? Cosa dovrebbero essere? Il culetto counter Torna indietro Dai abbassati No niente Adesso è cresciuta Adesso non ci passa più Dove devo andare? Scusate Scusate Cosa? Cosa devo fare? Ah qua Era un caso blu questo però Yeah yeah Uomo sospettoso Aspetta arriva qualcuno Eh Non riagganciare idiota Faccio finta di niente Finché non se ne vanno Intanto lo dice proprio No allora Stai fermo Faccio finta di niente Intanto li passo davanti E li distraggono Salve agenti Sì No zitto Li sto distraendo Un attimo Va bene So che avete da fare Ma lo vedete quel tizio Ci ha mandato di cattura per lui Potreste andare a sentire Quella sta dicendo? Tiene il legge Mi diceva un bersaglio Sì ma aspetta C'era un'altra roba Questa Eh Non so cosa serve Però che fai Non la catturi Tiè Ok andiamo a sentire Cosa dice il tizio Shhh Parla Sì Ascolta Te lo dico un'altra volta Non farmi ripetere Sempre le stesse cose Stanotte Alluna Magazzino numero 3 Se fai tardi Ti ammazzo Ok Intanto li giro di fianco Lalalalalalalala Anche durante Con tutta sta roba Cioè Portali che si aprono Destra e manca Lui viene arrestato Per la droga Poveretto Ecco qua Basta Bello sto compito Mi è piaciuto Bell'arresto Ma è stato Anche appagante Direi Molto appagante Come situazione Anche se non ho capito Cosa possono fare Ma vedi che non posso Prenderli o questi cosi Io posso prendere solo lui Sti cristalli Ops Come faccio ad arrivare laggiù? Sparo? No 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 Aspetta Torni indietro Come faccio? Vabbè Chi se ne frega Poi Scusate Mi servono quei cristalli? Mi sa che non mi servono niente Sti cristalli Vero? Molto probabilmente Ah Oh Aspetta un attimo Cacchia la fanno a botta Aspetta che ci sono dei cristalli Arrivo ragazzi Un attimo Ci sono dei cristalli Bonifica materia cremisi È quella? È quella la bonifica materia cremisi? Ah Il 95% di prima Era quella Ma che stanno facendo? Pensavo che i nostri giorni Nel pacificatore Terrisse Fossero finiti Fermiamoli prima Che qualcuno si faccia male Incateniamo Basta ragazzi Dai Quanti anni ci avete? Cinque Forza Bello che c'è il poliziotto Addestrato e tutto Non riesce a fermare due persone Che fanno a botta Grande Tu si che sei un gran lavoratore La gente è nervosa Ora questi due Penso io Abbiamo una chimera da seguire Eh magari Sì grazie Volentieri Ma scusa La chimera che ho ucciso io adesso Cos'era? Cioè di che Di che gruppo Faceva parte Era la chimera Con le mani grosse Boh Comunque direi che Tipo il gioco è partito A bomba Con tutta la frenesia E tutto Ma adesso è diventato Molto calmo Molto calmo Allora aspetta Fammi bere un attimo Sta roba Salve Chiacchiera Non ho nulla a dire Grazie mille È stato un piacere Anche per me Adesso è diventato Molto Prima Tipo Siamo partiti Che dovevano sparare A tutti A tutto Tutto ciò che si muoviva Dovevano spararli Adesso è tipo Indaga Ok Ok Cioè non si è capito bene Il su cosa Ma sono tornati indietro? Sono tornati indietro Raga What the hell No scusa Dove devo andare? Mi sono già perso? No che non mi son perso Dai No che non mi son perso Vero? No eh Non ho fatto niente Non posso essermi perso Prenditi quella roba Ok Ah Le tracce portano a quel muro Da qui dovremmo improvvisare Mi sa Da qui dovremmo improvvisare Ma questa è la strada Che ho fatto Adesso l'ho fatta Sta strada Raga Cosa devi improvvisare? Ma sta gente non c'era Ma guarda che infami Direi che dura Senso il legge Andiamole una mano Ma guarda te Qualcuno mi stica Mi è bastato muovere una mano E è sparito Eh Magia 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 amica Magia Ti preoccupare Sì C'ero già passato qua Trovato Ma dove sono finito? Eh Up there Up there Up there Il cacchio Up there Cacchio faccio Up there Up there Figlio di Pdor Oh mio dio Possono anche Vedo che si Tipo Si trasformano Loro dicono Che sono contaminati Però mi sembra Ma sembra facilissimo Cioè per ora Se sono riuscito A sopravvivere Sicuramente Perché è l'inizio Del gioco Però tipo Vedete Distruggere i nemici Qua così Non è Non è difficile Vedi la mappa Si perde con la mappa Ma la mappa Non è che Mi aiuta molto È tutto uguale Cioè la mappa Ti serve Se è un minimo Definita Va bene Quello già ci sta Ma è tutto uguale Tutto grigio Ci sono i sentierini Vabbè Tra l'altro Abbiamo la vita Del tizio A 199 Su 100 In che modo Le musiche ci stanno Però Cioè in sé In sé è carino Eccola vai Tacca Tacca Fufi Non è che possiamo Fargli fare Delle combo Al tizio Particolari Cioè per ora Ho visto solo Che posso Usare la catena Per fermarli Cioè per bloccarli E posso usare Sempre la catena Per fare Da rimbalzo Non mi sembra Tutta sta gran roba Ecco Le due combo Siamo fare Va bene Arrivo amici Arrivo Arrivo Vittaschete io Stavo schivando E basta Un attimo Ora guarda C'è un paio di colpi Schiattano tutti Il boss Anche il boss Un paio di colpi Forse è la modalità facile Quella è una chimera Vero? La chimera è abbastanza Complicata Ok la chimera Forse è già la più difficile Allora dove è il mio robot Vieni fuori Dai Ok Quante chimere Aspetta un attimo Ma chi è quello? C17 era? Che buona te Dove sono le chimere? Lì Andiamo ad aiutare loro Oh Dai Che c'è sto qua Con lo scudo Che mi sembra abbastanza Abbastanza forte Gira lì attorno Che sta facendo? Gira lì attorno Ok l'abbiamo incatenato Ma guarda quante botte prendono Ma non ci sta capendo niente Guarda Guarda quanto è frenetico adesso C'è tutto adesso Che interrogo gente E roba così Poi parte Esplode tutto È difficile anche Sì ho capito Sono in modalità facile È difficile anche commentarla Una roba del genere Perché non Cosa fai? Succede? Succede roba? Quanto pesa sto gioco Non lo so Dì io potrei mettere Anche una modalità Un pelino più complicata Contro le veicoli Ok